Alba Parietti distrutta e con il cuore spezzato si lascia andare ad un lungo messaggio di cordoglio, un lutto per lei davvero sofferente Grandissima tristezza per Alba Parietti, che ha mostrato un dolore veramente immenso a tutti i suoi fan Da decenni tra le donne più amate del mondo dello spettacolo, coinvolta come attrice a come conduttrice, ancora oggi La Parietti è sempre sotto i riflettori per la sua eleganza, il suo fascino e la sua sensualità, oltre che per la sua intelligenza e la sua bravura In attesa di nuovi progetti televisivi dopo il grande successo avuto con Non sono una signora, La Parietti si prepara a vivere un'estate d'assoluta protagonista, attivissima come sempre sul web Come molte altre persone, però, in questi ultimi giorni ha sofferto tantissimo per la perdita di una persona a lei davvero cara Con il cuore in gola e tantissimo dolore, Alba Parietti ci ha tenuto a lasciargli una dedica veramente strappalacrime sui social, con un lungo messaggio apprezzato e condiviso da tantissime altre persone, ecco cosa ha scritto, davvero commovente Alba Parietti distrutta dal lutto, il messaggio di cordoglio è commovente Proprio come Elisabetta Canalis e diverse altre persone del mondo dello spettacolo, in queste ultime ore Alba Parietti ha deciso di dedicare un sentito messaggio, pieno d'affetto e di dolore, per la scomparsa di Roberto Cavalli, stilista di fama mondiale scomparso all'età di 83 anni Ciao Roberto, sono stati anni e momenti indimenticabili. Dalla prima volta che con Eva ci conoscemmo a New York, con il vostro negozio, la vostra genialità, la vostra accoglienza Sei stato il re di un'epoca e di una moda che stravolse il mondo si apre così il post di Alba Parietti, che contiene anche una foto della conduttrice insieme allo stilista Ha continuato dicendo che il suo stile era inconfondibile. Nella fotografia che ha voluto pubblicare Alba Parietti ha condiviso un ricordo privato di alcune serata passate insieme Ma non è tutto, ha dichiarato che le giornate erano più leggere Grazie cuore rosso chiocciola Roberto Cavalli chiude il messaggio Alba, sottolineando ancora una volta tutte le qualità umane dello stilista Tanto dolore nel mondo della moda e dello spettacolo per la scomparsa di una figura veramente importantissima che ha trainato il Made in Italy per tantissimi anni Tanto dolore nel mondo della moda e di un'epoca